Creval ha realizzato con il supporto di Erion un importante progetto di data quality utilizzato recentemente anche per l'antiriciclaggio. Da quale esigenza siete partiti? Siamo partiti nel 2013. L'esigenza era legata all'introduzione del sistema di rating interno e per cui la richiesta era di avere uno strumento che permettesse sull'ambito data quality di avere una visione completa, quindi dove arrivavano i dati, come li integravamo, come definivamo delle regole di controllo ma anche visualizzare gli esiti e anche poter gestire con uno strumento in cui poter interagire quali erano gli interventi per le eventuali anomalie. E' questo che ha guidato un po' la scelta di Erion perché proprio queste funzioni le prevedevano attivamente quindi effettivamente la possibilità di integrare i dati da fonti eterogenee, di avere uno sviluppo rapido, di un motore di regole e della parte di visualizzazione dati, i famosi cosiddetti book, che permettevano di costruire un po' tutto quello che era necessario che erano proprio sulle richieste. Ci ha subito convinto, tanto è vero che abbiamo poi proseguito anche con un utilizzo al di fuori della data quality. In realtà data quality ha continuato a farla da trainante, tanto è vero che poi siamo migrati già nel 2015 alla soluzione specifica sempre di Erion sulla loro piattaforma RTG per data quality per accelerare questo processo di adozione di data quality e perché era perfettamente coerente con il nostro modello sia organizzativo che funzionale di data quality e quindi ci permetteva effettivamente di, con una guida anche, dovuta come è pensato lo strumento, a definire quali dati prendere, come visualizzarli, poi appunto era già previsto di salvarli, renderli visibili e un motore di regole di semplice uso anche vicino al business. Per esempio uno degli ultimi controlli da parte di data quality è quella sull'antiriciclaggio in cui abbiamo fatto le riconciliazioni dell'archivio unico informatico. Allora prendiamo un flusso dati dai partitari in cui dobbiamo riprodurre le regole che sono quelle per cui devono finire nell'archivio unico e queste regole di classificazione sviluppate in RTG di Erion sono addirittura disponibili per il business che è in grado di modificarle da solo perché a quel punto non necessita l'intervento IT. E ho citato proprio, venuto in mente, l'antiriciclaggio perché è quello su cui comunque stiamo lavorando molto ultimamente in Erion perché sempre sfruttando soprattutto la soluzione RTG e tutta la piattaforma sempre in ambito antiriciclaggio che dà un po' una visione completa quindi di indicatori di rischio che possono essere aggregati per territorio, per tipo di rischio ma poi volendo arrivare fino al dettaglio quindi comunque in una soluzione unica e anche qui dove è possibile rendere indipendente comunque una volta realizzata la soluzione che stiamo facendo con i servizi professionali di Erion è possibile per l'utente aggiungere nuovi e nuovi indicatori in maniera autonoma senza dover coinvolgere il fornitore o l'IT interno della banca e questa è una funzionalità molto significativa che ci ha convinto per cui stiamo proseguendo gli sviluppi con la piattaforma Erion e con la soluzione RTG. Quali sono le caratteristiche della piattaforma di Erion che non avete trovato in altre soluzioni presenti sul mercato? Mi vengono in mente la parte di raccolta e integrazione dati veramente da fonti terogene io ho in mente in particolare anche di prendere i dati dallo storico mainframe IBM quindi mondo COBOL, codifica e BCDIC che basta mappare la copia all'interno di Erion e già ti diventa una tabella utilizzabile poi per i confronti e questo già era molto significativo la flessibilità e la rapidità anche poi di essere anche autonomi per integrare e sviluppare regole è stata molto convincente e infine nella soluzione RTG direi anche l'aspetto di avere già pronta uno sistema che puoi automatizzare, nel senso di poter eseguire tutti i controlli le unità di processamento che sono state realizzate in maniera rapida e semplice quindi il time to market anche se è un po' interno è molto ridotto perché effettivamente tutti i problemi ripetitivi di predisporre una visualizzazione di predisporre una gestione di esiti e di organizzare la cosiddetta schedulazione è già previsto nella soluzione questo è un altro motivo che ci ha convinto a utilizzare questa piattaforma Passiamo ai risultati, quali vantaggi avete ottenuto? Il vantaggio è che effettivamente sulla parte più strettamente di data quality siamo riusciti a sviluppare effettivamente in tempi rapidi molti controlli mi ricordo che all'inizio comunque per 30 controlli avevamo impiegato parecchio tempo adesso in poco tempo utilizzando la soluzione RTG siamo arrivati ad avere 7000 controlli controlliamo 4 miliardi di record ogni mese quindi questo è già un ottimo risultato un altro è quello di avere effettivamente in un unico strumento sia l'aspetto di integrazione dati magari più ad appannaggio del mondo tecnico insieme alla parte di visualizzazione ed eventualmente di interazione anche per gestione delle anomalie più dell'utente business e quindi un punto unico dove riuscire a farli lavorare insieme e possibilmente facilitare la comunicazione anche se ancora non è così facile Qual è il giudizio su Irion come partner? Siamo stati molto soddisfatti sia della piattaforma della soluzione e del supporto che l'azienda in toto ci ha sempre dato perché sia dal punto di vista che dello sviluppo del project management, del sales quando abbiamo bisogno intervengono sempre in tempi molto rapidi che non è scontato Grazie a tutti